Iscriviti al canale! Non vuoi tagli di guf? Dai, voglio provare guf! Vedami fuori! Questa volta qual è la tua strategia? Lui ha preso tipo Naga, l'hai rollata, ha trovato lui e questa tua moneta passa. Una battaglia estremante. Admettiti il sesto e torna a combattere. Hanno rimesso 066 i miei due pezzi preferiti? Anche i miei, Enrique! Perché lui non livella? Ma perché? Perché non livella? Che cazzo fai? Pariggiamo in amicizia, ci stringiamo forte! Ma dove vai? Ma livella! Duns! Hai buone possibilità di vincere! Mi piace questo fatto, sì! Oh, la battaglia è in furia là fuori! Questo è il pezzo che è andato qua. Sono tornati i primi in una cuba, sì! Ogni tanto, è un game su quattro! Non è il più forte ma combatterà con onore! Stai andando bene! E' tutto! Da qualche parte devo... Devo... Devo fare dei tuini irribili ma no. I tuoi servitori Hanno davvero dato tutto Qua io posso amabilmente Prendere un pezzo a cazzo E vende Ovviamente volevo un token Questo È evidente Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Stai andando bene Non è più vai da altri paesi Non è arrivato a livello 5 municipio Quanto ti arrivo la conferma No dai Livello passo Intu Intu compio due pezzi Non è per me Anivia dovrebbe arrivare Non lo so quando arriva Migliori pezzi da trovare ora Bella domanda Allora A Taviana 4 o vogliamo A Teamides non è male Wildfire elemental Ma anche wave rider E' figo Stai andando bene Stai andando bene Stai andando bene Canal blaster o mateona Cioè a 4 in realtà Tante cose vanno bene E' figo E' figo E' figo Shifter Zeros! Shifter Zeros! Shifter Zeros! Shifter Zeros! Vado a prendere il ventilatore. Shifter Zeros! Un minutino veloce. Un minutino solo. Game? Hai buone possibilità di vincere. Gravissimo! E non so se prendere con il Wifi Elemental. Eh. O livellare. Un Wifi Elemental a 4 è tempo forte. Per tipo si chiama Koi Kasi. Il mare è pieno di pesci. Hai buone possibilità di vincere. Coinisce più 3 più 2 a un... Affanculo. A un pezzo. Ah no. A un pezzo di ogni locanda. Due monete. Dai, dammi un pezzotto di un'altra. Dai, 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 dai. Shifter Zeros, dammi una gioia. Dai, dai, dai. Dammi una gioia. Poi, coccone, Shifter Zeros. Cazzo. No, scontro la locanda. Meglio. Poi, a... 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 Mopad. Stai mettendo il mio midone Non puoi andare a vedere Ho fatto la luce Ho fatto la luce Deve passare questo e non questo Vediamo se riesce a stare in testa Dio, stai un pezzo stai andando a 6 per coccane eccolo qua qualcuno ha aggiunto livello 5 rise of kingdoms grazie prego mi faccio a sapere che sei sottisciù doppio zero spuzza di poichieria doppio zero saltamente puntini prendete un bel respiro prendete un bel respiro mi piace sta patch piace molto sta patch lo devo dire patty gifta la saba handel benvenuto handel grazie patty ho doppio zero se poi insomma non dite che io non vi voglio bene però ha svopato cazzo svopare in lui lui è fortissimo va a svopare sto coso ragazzi poi con irocaro è beoken è beoken con lui svopare eccolo il pezzo tavena 6 proprio quello che volevamo c'è ora non ci lamentiamo non ci lamentiamo io ho visto la vera fine dei tempi andrebbe inserito nella mia assolda pure una di queste reclute non vieni ancora capire che build è che sembra chi ha io lo zapp ti stanno puntando tutti fatti 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 allora zers in mano tripla solo se lo metti in campo non tripla in automatico andrebbe tanto lui per il regente io devo diventare scambile davvero è amalgamare invece sì amalgamare perché potenzia tu prima che lui aveva golden sei quattore un altro downloadatore ice of kingdoms che lui aveva qualcosa golden capito come faccio io e lui lo doveva lui lo posso scudare ma poi questo lo sto finendo ti stanno puntando tutti fa attenzione ok 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 Sì io ho fatto un servitore in meno una moneta d'oro io ho visto la vera fine dei tempi tutta tutta assapora il gusto della sconfinta grazie a me mi guidano un servitore in meno una moneta d'oro una moneta d'oro una moneta d'oro joker gol ventesimo grazie joker oh comunque 35 hp ragazzi nel senso non fare male si toglie lui per un eventore vereno o no come scrive che lui c'ha effetto infinito di difesa prendete un bel respiro quello farà un bel positive a fine del test un servitore in meno un servitore in meno una grande armata ti stanno puntando tutti attenzione attenzione che mi avessero la letta ooooh maronne che pelo il clan si chiama booty clan devi entrare anche nel nostro reame che è il 2848 tanto dopo 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 ci dici vengo guardate mantieni la pressione e che si fa cioè l'unico se stiamo andando a 5 posso sguppare lui bella scelta molto tattica cioè vedete questo scambio io lo potevi fare chi si mette il culo vediamo se riesce a stare in testa alla classe un pezzo in più scudo vereno alla fine perché tipo in caso di l'eroe Jenkins voglio che che muoiano prima che possano attaccare che l'eroe possa attaccare lo scudo